Buonasera, sono Laura Antichi, vi voglio presentare Sway. Benvenuti Sway. Vediamo che cos'è Sway. Sway è un'applicazione Microsoft, serve per presentare e pubblicare il proprio lavoro utilizzando testi, immagini, multimedia, creare un diario di apprendimento, un portfoglio, realizzare storie, preparare newsletters e organizzare report. Alcune caratteristiche importanti di Sway in didattica, l'interfaccia si strumenta rispettando stili e preferenze di ciascuno, offre la possibilità di scegliere linguaggi diversi, permette e facilita la condivisione e può anche essere condiviso in scrittura. Sway sviluppa competenze di progettazione, di socializzazione delle conoscenze, di collaborazione, di disseminazione e pubblicazione. Sway è disponibile gratuitamente per chiunque abbia un account Microsoft Hotmail, Live o Outlook.com. Quando si usa Sway come parte di un abbonamento a Office 365, è possibile creare Sway più sofisticati con contenuti aggiuntivi. Le scuole possono accedere gratuitamente su richiesta Office 365. Gli studenti in questo caso possono accedere a Sway e alle applicazioni comprese nel pacchetto con un account della scuola. Una volta che vi siete collegati al sito Sway.com e avete fatto login, vi trovate questa interfaccia. Andate, potete scegliere anche un modello oppure potete creare un nuovo contenuto. Crea nuovo. Vi dà la possibilità di mettere il titolo della vostra Sway. Posso fare My Learning per prova di ARI. Voglio aggiungere uno sfondo a questo titolo e quindi andrò a cercare un contenuto che vedete già mi propone del My Learning in ARI e ne sceglierò adesso uno, va bene, ne sceglierò uno qualsiasi, questo. Ok. E lo trascino qui. Poi posso aggiungere, poi vedremo nella riposizione come viene, aggiungiamo qualche altra pagina. posso aggiungere un titolo, ad esempio, cosa si intende per learning diari. o che cos'è, un diario di apprendimento, comunque qualsiasi cosa, adesso è semplicemente una prova. Poi possiamo trascinare qui un'immagine, qui scrivo i mediari della casella di ricerca per trovarvi un'altra immagine. e me ne dà parecchie, va bene, ne scelgo una qualsiasi, adesso non medito e dopo di ciò potrei aggiungere, dopo aver messo questo titolo, del testo, ad esempio questo in collo del testo. ecco, e potrei questo testo, tra l'altro potrei enfatizzarlo e evidenziarlo anche. ok, e quindi posso aggiungere altre, bene, andiamo a vedere in riproduci che cosa è successo, vedete, questo mi dà una visualizzazione laterale, vado in modifica e vado in modello e in modello, in stili, scelgo invece una visualizzazione verticale, quindi faccio di nuovo riproduci, vi faccio vedere quindi come viene la visualizzazione verticale, in questo modo e vado di nuovo in modifica e in modifica posso, beh, sempre nella organizzazione in stili trovo anche la possibilità di personalizzare lo Sway con colori, effetti grafici e trame, posso anche scegliere come, ecco, vedete, come marcare i vari contenuti, quindi il layout, mi viene proposto in questa forma nel momento in cui io l'ho personalizzato, diverse possibilità. ritorno quindi in sequenza e posso aggiungere in sequenza altri contenuti, tra i contenuti che posso aggiungere sono parecchi, cliccando sul più, posso aggiungere come abbiamo visto testo, il titolo, il testo, le immagini, abbiamo inserito, possiamo aggiungere anche una pila di immagini, ad esempio, aggiungo un contenuto, immagini in questo caso, e la pila è un gruppo di immagini e ne scelgo alcuna a caso, scelgo questa, 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 va bene, ne ho scelte tre, ne scelgo a caso, questa del diario, le faccio aggiungi, quindi ho aggiunto qui tutte le immagini del gruppo pila. andiamo a riproduci e voi vedete che qui ho la pila delle immagini che ho aggiunto e che posso far scorrere cliccando sopra di S. Ora di nuovo quindi vado in modifica, come vedete, ho in modifica tutto quanto avevo inserito precedentemente. Ora posso aggiungere sempre in modifica altri elementi, ad esempio elementi multimediali, vedete che posso aggiungere immagini, un video, un audio o un incorporamento. Ad esempio vado su YouTube e scelgo un video, vado in condividi, vado in incorpora e mi accoppio il codice embed del video, ritorno sul mio Sway e clicco su incorporamento e incollo qui il codice di incorporamento. Come vedete, adesso vediamo i riproduci, quello che abbiamo visto prima. e vedete che ho inserito qui pure il video. Ecco, qui lo posso ingrandire e qui il video di YouTube che funziona perfettamente. Posso modificare la visualizzazione del video YouTube, farlo ad esempio medio, in riproduci, poi vado a vedere come si colloca. Vedete che è una collocazione migliore rispetto alla precedente scelta che lo vedeva piccolo e quindi me lo accatastava. Ora vado anche a modificare il gruppo Pila che risultava troppo piccolo, l'ho imposto l'enfasi sulla scheda su media e andiamo a vedere e riproduci come viene il gruppo Pila precedentemente fatto. Vedete che è migliore la visualizzazione in questo modo. Ok, vado di nuovo in modifica e una volta che ho ultimato il mio lavoro, vado in condividi, posso invitare le persone a visualizzare o anche a modificare il mio Sway. E qui ho il link dello Sway, posso ottenere un collegamento visivo, condividere su Facebook, Twitter e LinkedIn e ottenere anche un codice di incorporamento. Tra le altre opzioni ho la possibilità di chiedere una password per visualizzare o modificare questo Sway. Questo è tutto brevemente. Buona serata a tutti. Grazie. Grazie. Grazie.